vaccini più di 20.000 marchigiani over 40 già prenotati confindustria la presidenza passa da papalini ad alessandra baronciani interquartieri si prepara un progetto di rifacimento di strade e rotatorie proloco pronte a stupire con il natale che non ti aspetti buonasera e benvenuti al nostro telegiornale di oggi martedì 23 novembre che apriamo facendo il punto sulla seconda giornata di prenotazioni alla terza dose di vaccino per le persone comprese tra i 40 e 59 anni una terza dose che è partita con numeri incoraggianti visto che secondo l'aggiornamento dell'asur sono già 23.000 i marchigiani prenotati in tal senso secondo l'ultimo aggiornamento di oggi alle ore 13 numeri che provano a contrastare la morsa di contagi ancora alti oggi 264 nuovi casi nella regione marche di cui 34 in provincia di pesaro urbino rimangono stazionari ricoveri 90 di cui 22 in terapia intensiva purtroppo però si sono registrati oggi ben 5 decessi una donna di 86 anni di macerata e 4 uomini un 89enne di pesaro un 86enne di falconara un 74enne di loreto e un uomo di 88 anni di arcevia delegazioni di tutto il mondo industriale pesarese si sono riunite questa mattina al teatro sperimentale di pesaro dove si è tenuta l'assemblea di confindustria pesaro urbino che ha sancito il cambio di presidenza da mauro papalini ad alessandra baronciani primo presidente donna della storia dell'associazione pesarese presente all'assemblea anche il presidente nazionale di confindustria carlo bonomi mattinata di emozioni riflessioni e motivazioni per il comparto degli industriali pesaresi il teatro sperimentale ha ospitato l'assemblea di confindustria di pesaro urbino probabilmente una delle più importanti nella storia dell'associazione perché è stata quella di fine mandato per mauro papalini che si congeda dalla presidenza dopo quattro anni di cui la metà da traghettatore di una categoria nella tormenta della pandemia e perché ha registrato il passaggio di consegne ad alessandra baronciani dell'azienda isopac prima presidente donna in 75 anni dell'associazione aggiungiamoci pure che a presenziare all'assemblea c'è stato il presidente nazionale di confindustria carlo bonomi tra i più accalorati ad applaudire ed abbracciare un emozionato mauro papalini un grande ringraziamento allungatosi a tutte le autorità del territorio dal presidente della regione acquaroli al sindaco ricci dal presidente della provincia paolini a quello della camera di commercio sabatini fino al rettore dell'università di urbino calcagnini si è respirata quella coesione tra imprese e territorio che è stato il titolo messo in calce alla stessa assemblea dopo quattro anni di attività e aver sentito tante persone al fianco e condividere gli stessi obiettivi non non potevo non ringraziare pertanto ecco sono ringraziamenti chiaramente con grande emozione ma con grande affetto e sono sicurissimo che chi ha ricevuto il testimone questa mattina per per proseguire un percorso iniziato lo farà molto molto bene e avrò modo di ringraziare la nuova presidente per ogni attività che svolgerà io con mauro ho lavorato al fianco per quattro anni in qualità di vicepresidente per cui mi lascia anche un po di malinconia però so che continuerà comunque a collaborare perché il nuovo statuto ci dà questa possibilità e mi lascia tante emozioni e una grande carica questo incarico come donna come prima donna mi consentirà di stare vicino a tutti gli associati ovviamente a tutti gli imprenditori ma un occhialino all'imprenditoria femminile un po di sensibilità forse in più al lavoro all'occupazione dei giovani e delle donne l'assemblea è stata anche l'occasione per premiare gli imprenditori storici della provincia dai 70 anni di costruzioni brandi passando per l'impegno decennale di scavolini midor ernesto meda alluflon lam fox diba morfeus e tante altre aziende intrattenutesi nell'ascoltare la relazione finale del presidente di confindustria bonomi che dal podio dello sperimentale ha rinnovato gli sforzi di una categoria che combatte con il cuneo fiscale la riduzione del costo del lavoro e le divergenze con una classe politica e sindacale che non sta parlando il linguaggio dell'imprenditoria speriamo soprattutto in questo momento così difficile lo vivo da imprenditore dove le materie prime come ha detto lui tant'è trovarle ma i prezzi non sono quantificabili le energie sappiamo dove stanno andando l'unico aiuto che possiamo avere per mantenere la nostra competitività è quella di ridurre il costo del lavoro quando il cuneo fiscale e di dare comunque anche più disponibilità in mano agli italiani e ai lavoratori questo sarebbe fondamentale perché è un momento molto difficile sono ormai due anni che siamo sotto pandemia e ora di fare qualcosa si avvicina il 25 novembre giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne in questa occasione la polizia di fano rende noto come negli ultimi mesi in otto occasioni gli agenti hanno proceduto penalmente per reati di violenza di genere nello specifico sono stati denunciati cinque uomini resisi responsabili in due casi dei reati di maltrattamenti verso familiari e in tre di atti persecutori e lesioni personali le otto vittime di cui sette donne e un uomo sono tutte residenti a fano in tutti gli episodi a seguito delle continue minacce psicologiche fisiche a cui erano sottoposte anche da diversi anni dai compagni o dagli ex le donne si sono rivolte direttamente agli agenti del commissariato di fano dove è stata allestita una stanza dedicata per fornire assistenza e raccogliere le segnalazioni delle vittime di queste delicate situazioni cambiamo completamente argomento e parliamo di lavori pubblici a pesaro per la prima volta dalla creazione dell'interquartieri il comune è intenzionato ad effettuare una manutenzione straordinaria della strada ma anche delle sue rotatorie da anni è diventata la principale arteria stradale cittadina ma su asfalti e rotatorie dell'interquartieri di fatto non si mette mano dalla creazione stessa della strada è arrivato il momento lo ha preannunciato il sindaco matteo ricci a villa fastigi e villa ceccolini in una delle tappe del format sindaco per i quartieri in cui si fa il punto su opere completate e cantieri da realizzare l'interquartieri è una di questi cantieri dove saranno ristrutturate rotatorie e sarà migliorato il drenaggio di un asfalto che spesso fatica a far defluire l'acqua piovana ora il progetto passa dagli annunci alla discussione in giunta comunale una volontà forte da parte del sindaco di destinare delle risorse dell'avanzo di amministrazione sulle sulle asfaltature in particolare e destinarle all'asfaltatura degli interquartieri e noi fino adesso ci siamo mossi anche chiedendo un po ai vari quartieri quali erano le vie in cui preferivano fare interventi da parte di asfaltatura da parte del comune interquartiere però non è la strada di un quartiere solo ma appunto è la strada di tutta la città è stata realizzata tanti anni fa e necessitava di un intervento che non è un intervento di semplice asfaltatura perché si tratta insomma di asfalto drenante di spessore di asfalto non dei 5 6 centimetri ma una cifra molto più importante non interverremo solo sulla strada ma è anche sulle rotatorie tant'è che il progetto che andremo a portare in giunta la prossima settimana sarà un progetto che riguarderà sia la strada che le rotatorie quindi complessivamente 400 mila euro dalle strade andiamo a parlare adesso dei sottopassaggi stradali luoghi spesso grigi e trascurati che a pesaro continuano invece a colorarsi di murales con tematiche cittadine come in linea al progetto sottopassaggi d'arte urbana oggi è stata completata un'altra opera pittorica quella del sottopasso di via milano ne abbiamo quindi parlato con massimiliano santini coordinatore del progetto e con l'artista rossella de stefani che dopo il murale in strada tra i due ponti ha abbellito anche questa zona della città siamo contenti di aver portato a termine il terzo dei sottopassi che rientrano nel contenitore sotto passaggi d'arte urbana per questo 2021 abbiamo concluso quindi il terzo che questo di via milano i primi erano quello di loretto quello di via la marca e quest'ultimo l'abbiamo voluto dedicare ai borghi e castelli della nostra della nostra città e ci sembrava doveroso perché ecco sono posti meravigliosi del nostro entroterra comunale che vorremmo sempre più far conoscere e sempre più promuovere e anche perché abbiamo vinto come tutti sanno il ci siamo giudicati il bando pinqua che andrà a rigenerare i nostri borghi i nostri castelli con investimenti di milioni e milioni di euro ecco partiamo da questo piccolo murale per un percorso che vedrà nei prossimi anni proprio la rigenerazione e la riqualificazione di questi borghi il murale parla di ginestreto parla di posto altro viene raffigurata novilara candelara fiorenzuola tutti i luoghi del nostro comune e vengono rappresentati gli edifici storici ma non solo ma anche le icone e di questi di questi posti che sono diciamo un po le tipicità ovvero ad esempio novilara abbiamo voluto rappresentare il piatto per eccellenza che la tagliatella col fagiolo e anche la stella di novilara a candelara abbiamo per dire il rappresentato le candele chiaramente ma anche l'arcolaio che comunque sia un simbolo di candelara e a fiorenzuola i fuochi di focara e dante ecco abbiamo voluto raccontare attraverso questa bellissima opera realizzata da rossella e tutte le tipicità e le cose belle che abbiamo all'interno dei nostri borghi ho fatto lavori per terra ho fatto lavori sulle pareti tutta una loro difficoltà non so dirti qual è la difficoltà maggiore è sempre una sfida comunque quello è bello e superi tutte le volte un tuo limite è sempre superare il proprio limite tutti i lavori che fai tutti e quindi è una crescita e fa sempre piacere e poi regalarli alla città è bellissimo è molto più bello che tenersi lì nello studio ecco per il prossimo anno abbiamo altri tre sottopassi che saranno lo sottopasso di via gradara il sottopasso di san decenzio e l'altro sottopasso di loreto continuiamo a colorare la città e a renderla sempre più bella attraente ieri all'auditorium parco della musica di roma è stato presentato il calendario del 2022 della guardia di finanza le cui tavole pittoriche sono state realizzate in gran parte dagli studenti del liceo artistico mengaroni di pesaro è una preziosa collaborazione quella che intercorre ormai da anni tra le fiamme gialle pesaresi e il liceo cittadino che già in passato si è prestato a realizzare pregevoli opere collocate presso la caserma di via gagarin anche quest'anno i tradizionali doni delle feste potranno diventare un regalo prezioso per le persone più fragili come i pazienti oncologici assistiti da fondazione ant l'iniziativa è stata presentata dal consiglio regionale che sostiene ant che da oltre 40 anni porta cure mediche a casa delle persone malate di tumore con una donazione minima di 20 euro sarà possibile regalare il paniere delle eccellenze marchigiane di ant ovvero borsine in juta confezionate con quattro prodotti tipici del territorio con questo dono si può aiutare ant a scongiurare il rallentamento delle proprie attività di assistenza domiciliare ai malati quest'anno sono 130 le aziende della regione che hanno regalato i propri prodotti per questa missione il paniere si può già acquistare nelle sedi ant regionali ed ora parliamo di teatro perché lo sperimentale di pesaro ospita due diversi spettacoli fra domani e giovedì mercoledì 24 novembre su iniziativa del comune e amat va in scena simposio del silenzio una creazione di lucrezia maimone giovedì 25 novembre va invece in scena un nuovo appuntamento della stagione dedicata al contemporaneo con un chandamore come mettere in scena l'odio di teatro rebis scrittura scenica e regia di andrea fazzini con mary bracalente massimiliano ferrari fernando micucci e francesca zenobi ed ora parliamo di natale l'anno scorso fu annullata a causa della pandemia e l'ennesimo rischio di assembramenti da sabato invece candele a candelara torna a illuminare il borgo delle colline pesaresi con tutti gli accorgimenti di sicurezza necessari candele a candelara diventa maggiorenne diciottesima edizione per la festa dedicata alle candele conosciuta in tutta italia e ormai anche oltre confine che torna dopo l'annullamento dell'edizione 2020 a causa delle restrizioni da pandemia si riparte con sette giorni fra 60 tipiche casette in legno divise fra mercatini natalizi laboratori animazioni gastronomia e naturalmente la luce fioca e avvolgente delle candele ad illuminare il borgo si comincia già questo weekend sabato 27 e domenica 28 novembre per poi proseguire il 4 5 8 11 e 12 dicembre candele candelara ha voglia di ripartire perché l'ottimismo non deve mai mancare soprattutto tra i soci e collaboratori della pro loco perché effettivamente senza di loro non si riuscirebbero a fare queste cose così grandi e così belle poi ecco quest'anno abbiamo avuto anche una spinta ulteriore da parte delle agenzie di viaggio tour operator perché effettivamente così c'è molta richiesta nonostante che poi adesso ecco ci sia un momento critico perché più si va avanti più si vedono problematiche diverse comunque ecco noi siamo pronti e soprattutto pronti per questo mercatino che è unico in italia ecco perché così gettonato da tante tante agenzie di viaggio poi abbiamo ecco uno spazio che riserviamo sempre ai bambini perché chiaramente quando ci avviciniamo al natale il momento migliore che possiamo così offrire ai nostri bambini è quello spazio che abbiamo ricavato grazie anche a tante tante collaborazioni sono quattro le collaborazioni che abbiamo avuto per allestire questo spazio bimbi spazio bimbi dove troviamo i laboratori dove costruiscono candele e altro materiale vario poi abbiamo un villaggio di babbo natale dove possono scrivere la loro letterina e consegnarla direttamente a babbo natale nella sua casetta e anche tante animazioni e giochi all'interno del castello per una delle manifestazioni a più alto rischio assembramento sarà un'edizione trasformata e ridimensionata negli spazi in linea alle norme anti covid green pass obbligo di mascherina obbligo di prenotazione dei posti in pullman per raggiungere il borgo ma navette nettamente potenziate certamente faremo tutto il possibile perché le cose vadano per il meglio rispettando sempre tutto quello che ci verrà imposto per le normative covid che naturalmente ci saranno green pass obbligatori e mascherine anche all'aperto obbligatori candele a candelara è solo uno dei venti luoghi della provincia di pesaro urbino che stanno apparecchiando eventi natalizi dedicati che si ripetono e si migliorano negli anni grazie all'impegno costante delle proloco tanti borghi uniti dal filo conduttore del natale che non ti aspetti un format che torna dopo un natale in edizione digitale e torna con il patrocinio della regione marche rossini tv oggi era presente alla presentazione appunto di questo progetto ad ancona con il nostro edoardo orazzi vediamo il servizio dal 27 novembre fino al giorno della befana ritornano i mercatini natalizi organizzati dalle proloco di pesaro urbino il natale che non ti aspetti e questo il nome dell'evento che avvolgerà il centro italia con la magia del natale e alla sua presentazione avvenuta oggi a palazzo leopardi di ancona erano presenti gli assessori regionali a guzzi e baldelli e il presidente dell'unione proloco di pesaro urbino damiano bartocetti è un grande evento che va avanti da tanti anni ha chiaramente destagionalizzato il periodo invernale quindi abbiamo portato voglio parlare dei numeri perché fino a quando l'abbiamo fatto in presenza avevamo 260 mila turisti più di oltre 300 pullman da tutta italia anche dall'estero e un indotto economico straordinario e importante il natale che non ti aspetti è un evento creato e ci tengo a ribadirlo da tutti i volontari delle proloco della provincia di peso urbino un evento che prima è nato solo nella provincia di peso urbino ora si sta allargando a tutte le marche è un evento che oramai è diventato l'evento d'eccellenza del centro italia dove oramai ci viene riconosciuto anche dai tour operator lombardi veneti ma comunque da tutta italia un interesse veramente importante e a volte ci spaventa questa cosa perché realizzato dai volontari costruito e mantenuto dai volontari è diventata veramente un è diventato veramente un evento di importanza e di rilevanza nazionale e lo scorso anno abbiamo avuto contatti da tutto il mondo abbiamo avuto contatti dagli emirati arabi da new york con la edizione digital che ci ha portato questo a crescere ancora di più gli eventi natalisti e grazie alla regione marche che oggi siamo qua a presentare questo bellissimo evento ci rende veramente orgogliosi un viaggio incantato con tanti appuntamenti tra le meravigliose località che vanno dal mare adriatico al monte feltro si parte con è natale a montbaroccio passando per candele a candelara e arrivando a cioccovisciola di pergola passando poi per gradara con il castello di natale a urbino con le vie dei presepi e a orciano con viviamo il natale e poi ancora con il natale più di fano e nel castello di babbo natale di frontone ma anche tanti altri appuntamenti che addobberanno le vie di piobico montecchio sant'angelo illizzo la sant'ippolito fratte rosa macerata feltria cagli fermignano mondolfo urbagna montemaggiore fossombrone le proloco in questo senso hanno fatto sì in questi anni di destare una grande attenzione sulle iniziative che vengono portate avanti magari storicamente inizialmente isolate da singoli comuni singole attività o singole proloco invece racchiuso in un'unica iniziativa molto significativa che racchiude 25 esperienze 25 proloco diverse suddivide su molti comuni della provincia di pesaro questo ha fatto sì che diversi di queste iniziative ormai sono diciamo così ad un livello io direi perlomeno nazionale ma oserei dire anche in qualche caso internazionale perché spesso provengono anche da fuori nazione oltre che da fuori regione dei turisti appositamente per questo tipo di iniziative filo conduttore bolzano bolzano perché perché bolzano ci ha seguito attentamente siamo rimasti colpiti da quello che loro ci hanno detto detto che stiamo facendo un lavoro superiore a loro e contando che siamo tutti volontari e insieme il 2 e il 3 di dicembre firmeremo un protocollo d'intesa tra bolzano l'azienda di soggiorno di bolzano e i mercatini del centro italia che sono i nostri che sono i nostri della regione marche perché oramai possiamo parlare tranquillamente di regione marche e allora speriamo davvero di poter vivere tutti questi meravigliosi eventi con serenità in questo prossimo natale siamo in chiusura del nostro telegiornale ma attenzione perché questa sera in prima serata c'è la prima puntata di master fish il pesce va in onda una nuova edizione di questa gara culinaria con chef amatoriali che questa sera si sfideranno al ristorante settima fila non perdetevi l'appuntamento allora le 21 e 20 con paolo pagnini e la nostra roberta vi ricordiamo anche che domani è mercoledì e il mercoledì è dedicato a green tour dopo la prima puntata che andate in onda la scorsa settimana dedicata a monbaroccio domani avrete una bellissima panoramica con delle immagini col drone meravigliose e poi la storia la cultura ma anche l'enogastronomia su gradara quindi domani alle 21 e 20 la nostra prima serata sarà dedicata a green tour e allora grazie per averci seguito e buon proseguimento con la programmazione di rossini tv grazie per averci seguito